Vediamo Di Eneves alla prima possesso per il Trissino, attacca Malagoli in quartetto, García Lete! Emanue García! Tiro battuto alla volo, numero 84, il pericolo Trissino alla prima marcatura dopo... L'assistenza del 6 Andrea Malagoli, il gol dell'84, Manu García! Palla il giocatore spagnolo, va in ripartenza il Trissino, per 3-3 Malagoli, García dentro e arriva il gol di Malagoli! Raddoppio preciso ancora il Trissino di Malagoli! Va l'assistenza dell'84 García, assegnato il numero 6 Andrea Malagoli! L'assist perfetto! Perde la pallina, ripartenza di Neves, il tocco per García, Neves sarà di rigore, Neves! Gol! Nel Trissino! Numero 74! Corilla 74, Diogo Neves! Comunque continua a comandare il gioco con questi continui cambiamenti di fronte. Ancora una incursione del numero 74, Diogo Neves! Gol! Nel Trissino! Della Dorbirn, benvenuti intanto, ben ritrovati per il secondo tempo e c'è il gol bellissimo! Il 7 della gabbia del Trissino, proprio alla sua sinistra, il numero 8, Gomez del Torno! Computo dei falli contro il Dorbirn, vi ricordo che è il decimo fallo, tiro diretto e c'è ancora una rete! Gol di Malagoli! Vediamo un po'! Battuta precisa! Gol! Nel Trissino! Con il numero 6, Andrea Malagoli! Insieme al connazionale Gorina questo incontro! Dal Santo prova a andare per Diogo! Neves! Ancora Diogo Neves! Gol! Nel Trissino! Gol 74, Diogo Neves! Fuori per Malagoli, c'è Brunner su di lui, un look per Diogo Neves! Gol! Nel Trissino! Ancora il 74, Diogo Neves! Ripartenza Ventura, sull'out di sinistra, scarico per Filippo Schiavo! Gol! Nel Trissino! Ancora il 7, Filippo Schiavo! Entra nel tabellino delle marcature per questa partita, ottavo gol del giovane gioiellino del Trissino. A favore del Trissino. Ancspiel, opportunità per lui! Gol! Ancspiel contro Zenn, 13 e 23 alla fine, la parata di Zenn, ma c'è da ripetere. Il golkeeper per il portiere. Una volta la parata, ancora però il gol del Dordir con Ancspiel. Vediamo adesso contro Abrao Lincoln, Gomez da Silva. Ventura, ventura, rete! Gol del Trissino! Gol 66, Orej Ventura! Giocatore che ha segnato 4 gol stasera. E intanto arriva Facin, finalmente! L'abbiamo chiamato tutta la partita, Carlo! Gol del Trissino! Se l'è meritato, lo ha cercato, con grinta, aveva gli occhi assettati di sangue e Alessandro ha voluto questo gol. Lo ha cercato in tutti i modi e ha portato a 10 le marcature della formazione trissinese.